allora ragazzi sto registrando è un video importante innanzitutto boxari il saluto mitico non poteva mancare un video importante perché tanto per cominciare il vostro mob esce la faccia vedete che è uscito la faccia il mob incredibile tutti lo chiedevate e così da niente esce questo video ma che in realtà un video non allegro un video triste che vi dovevo perché la cosa più bella di questo canale ovviamente benvenuti è sempre xbox zone e game pass non è che sempre quello è benvenuti però questo è un video serio probabilmente il video più serio che registrato per è un video che vi devo perché avete costruito una comunità bellissima questo canale che mi ha molto colpito mi iscrivete anche privatamente mi spronate a registrare video è bello questa cosa che è stata tirata su con questo canale e ci tengo e quindi è anche per questo motivo che vi devo vi devo questo video perché sono due settimane che non arrivano video nuovi qualcuno di voi conosce già i motivi però voglio fare questo video forse anche per aprirmi ad altre categorie di persone non solo gli adepti giocatori del canale visto questo un canale gaming adesso mi rivolgo anche magari che quelli arriveranno forse dal motore di ricerca le parole chiave però un video importante che volevo fare perché volevo registrare perché appunto sono due settimane che non riesco a fare video in realtà questo problema è iniziato un mese fa da quando mi sono svegliato una mattina e mi sento un fischio costante a entrambe le orecchie destro molto molto intenso molto alto come decibel e al sinistro basso un po livello tipo un motore di frigo che lo sento solo di notte mentre quello a destra lo sento sempre e questi che chiamano questi bellissimi termini tipo acufeni o teniti è un argomento che io ovviamente è una cosa che non raccomanda nessuno nemmeno al mio peggior nemico perché io mi sono svegliato purtroppo una mattina con questa problematica ed è un problema che se ne sente parlare ne ho sentito parlare ma non gli dai il peso che merita finché non ti tocca è quello il concetto è quello perché mi ho sentito dire di tutto cioè che nel silenzio assoluto non si può vivere è davvero perché tutti ma anch'io essendo appassionato di musica producendo musica e questo è un problema enorme per me perché io non riesco io non riesco più a mettere queste ragazzi il concetto è molto semplice io non riesco a più a mettere queste ragazzi vedete verde verdi boxare eh io non riesco più a metterle già le tengo le tengo spenti perché se mi parte un suono qui dentro io pazzisco perché non è solo la questione spettinato al capello del mob non è solo la questione del fischio io ho avuto la sfortuna ulteriore di avere l'acufene reattivo come lo chiamano e c'è che reagisce suoni quello dell'orecchio destro fa antagonismo se io ascolto un suono anche forte il fischio aumenta ma aumenta tantissimo fino a occuparmi o frequenze a un certo punto mi sento confuso perché è un fischio proprio forte già adesso dal tono della mia voce sta aumentando quindi è drammatico perché mi sono sentito dire di tutto dai medici di che è una questione ad abituarsi ma come si fa ad abituarsi a un suono che vuole prevalere sempre non ti abitui non ti abitui e la mia vita è cambiata molto in peggio quando mi è saltato fuori perché io il 30 per cento della mia attenzione sempre dietro a questo acufene il 70 per cento vive il 30 per cento ascolta e controlla questa acufene che non vado a peggiorare e questo sempre anche quando dialogo con gli amici se sono fuori alcuni posti con il frequento più non vado al cinema non vado in una discoteca quello che si è raccomandato anche il mio autorino vabbè ma neanche al cinema perché come parte un Dolby Surroundi un pazzisco cioè non è solo che purtroppo non c'è solo questo non solo il acufene che reagisce ma anche un'intolleranza ai suoni proprio a livello di fastidio di disagio anche un po dolore perché a un certo punto sento che il timpano si contrae tipo una forchetta che cade in terra rumore di metallo è veramente una situazione drammatica francamente drammatica che io ho cercato di beh inizialmente sei relativamente tranquillo perché pensi che passi anche se ripeto fischi che ho sempre avuti anche di notte un fischio lontano lo puoi sentire o i fischi quando esce dalla discoteca che ti durano 24 ore o il fischio che arriva random diventi anche sordo dall'orecchio ma dopo 10 20 secondi va via no quelli li chiamano transitori per un fischio che ti prosegue per una settimana o due è difficile che come dicono me lo dovrei tenere ma io non è la prospettiva di tenerlo è la prospettiva di vivere con una problematica del genere che vuole prevalere e questa alta intolleranza ai suoni perché ripeto cade mi tirano un urlo non lo so una falciatrice una macchina che mi passa vicino io mi sento male quindi ci sono anche delle contraddizioni perché è per questo che volevo registrare questo video perché la medicina comunque gli specialisti medici di questi settori non brancolano un po nel buio perché io ripeto ho fatto mi sono svegliato una mattina spazza fin dall'inizio facciamo anche un po di 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 coso perché io non so la causa quello di scorsione non una causa scatenante non mi è esploso un petardo vicino all'orecchio non non sono caduto non sono uscito dalla discoteca che aveva la musica a palla sticca non ho avuto un fenomeno scatenante io a me piace ascoltare la produco anche ma mi piace anche ascoltare musica in cuffia mi piace ascoltare il rumore bianco si rumore ambientali ruscelli gli uccellini questi questi suoni qui mi rilassano comunque li metto a volume basso tanto più che avevo anche scaricato un app che ti frena a certo punto ti blocca il volume se ti addormenti con questi suoni ti blocca al volo in maniera che tu accidentalmente non va ad alzare quindi io non mi piace ascoltare la musica anche in cuffia volumi altissimi magari me la sparo per qualche minuto perché c'è il pezzo che gasano della spari ma poi cominciò iniziano a fischiarmi le orecchie quindi smetto poi quello si ritirava subito ma comunque tendenzialmente non mi piace sentire musica altissima però sicuramente le cuffie le uso tanto purtroppo ultimamente mi era preso un po la fissa per questi io vi dico ragazzi attenti attenti a agli auricolari perché questi qui sparano la musica direttamente nel condotto auricolare e mi sa che non è una bella cosa non so se è questa che ha provocato un trauma acustico io non intendo così ma nessuno l'ha detto è la mia supposizione che possa aver avuto un trauma acustico vedete ne ho tanti su pieno e ora adesso che me ne faccio di questi io le tiro tutte nell'umido perché io ho paura di mettermi queste questi dispositivi meglio a questo punto io raccomando non voglio fare una pubblicità anti auricolari ma raccomando di usare le cuffie over ear come le chiamano perché magari il suono non è sparato direttamente nel padiglione auricolare e c'è un po di spazio un po di non dico aria perché non è che l'orecchio debba prendere aria non funziona così però magari non non è costantemente col timpano che deve lavorare suoni poi non è nemmeno questo video debba essere medico anche se poi io sono andato a approfondire su tutte le problematiche dell'orecchio medio la la coca cellule danneggiate però appunto questo era il mio scenario non c'è stato nessun evento particolarmente traumatico l'unica cosa quella si ma avendo la comunicata anche al dottore non mi ha data molta rilevanza mentre ascoltavo con queste maledette qui che ma le dico a un certo punto nell'orecchio sinistro che poi quello meno problematico ho sentito come un effetto eco distorto della musica che stavo sentendo e quello mi ha spaventato c'è un effetto memoria e una roba del genere non avevo mai mai provata mi ripeteva in modo distorto con un eco il suono quindi a un certo punto lì mi fermai spaventato continuai a sentire i suoni tipo eco un po metallici un'idea di molta importanza puoi andare a letto il giorno dopo il dramma mi sono svegliato con questi fischi sempiterni perenni e se inizialmente uno pensa che ti passeranno quindi sei relativamente tranquillo passano i giorni le settimane sempre lì un po quella quella speranza si va a trasformare prima in angoscia poi rassegnazione però il dramma che non ti rassegni con una cosa così dinamica ti rassegni con un fischio che è lì si fa coprire anche dalla tua voce e che il tuo cervello si può abituare ma come si fa il cervello abituare a un fischio che varia è drammatico io spero che questa cosa qui perché nessuno mi ha detto nessun medico mi ha detto andrà via mi hanno detto tutti ti adatterai nessuno ha detto andrà via questo già non è bello no io comunque mi sono subito ad operato e sono andato subito da uno torino che mi ha bombardato di cortisone mi ha controllato i condotti mi ha detto che non c'erano tipo tappi di cerume che fosse un problema ma insomma mi tengo le orecchie sempre molto pulite quindi non pensavo ad avere tappi di cerume e comunque simpan li ha trovati bene non li ha trovati particolarmente con problemi perforazioni o cose così mi ha dato un sacco di cortisone una visita audiometrica però molti giorni dopo il cortisone perché mi ha fatto fare due settimane io ho fatto il cortisone per due settimane in dosi massicce che non raccomanderei a nessuno poi a un certo punto mi sono sentito male e una notte sentivo proprio le trasmissioni dallo spazio gli alieni dei suoni incredibili nell'orecchio che mi hanno spaventato a morte il giorno dopo era pronto soccorso pronto soccorso appena mi hanno visto e mi hanno misurato la pressione del signore e alla pressione a 190 e non mi hanno ascoltato alla mia problematica che cercavo di fargli capire che non sono lì non ero lì per la pressione a 190 ero lì per il problema dei fischi e loro mi dissero no guardi tranquilli fischi sono dovuti alla pressione non c'entra niente il suo orecchio sta bene senza averlo studiare curato senza aver fatto nessun tipo di analisi stasi come era nel pronto soccorso non l'ho capita francamente poi uno che ha già da due settimane questo problema dubitavo fortemente quando aveva avuto la pressione a 200 per due settimane no infatti che cosa è successo mi hanno dimesso non mi hanno fatto il testo audiometrico che bisognerebbe fare quando uno si reca al pronto soccorso otorino la ringoiateria non mi hanno fatto il testo audiometrico e io il testo audiometrico e sono andato a farmelo privatamente spendendo un buato di quattrini per quello discorso e mi sono anche rifatto visita dello torino che mi aveva già visitato quindi sono stato costretto oltretutto a fare testo audiometrico con una nuova visita dello torino che era diverso quindi un'altra persona però non ho approfittato per avere il secondo parere tanto il primo non ha detto niente il secondo torino mi ha fatto il testo audiometrico mi ha detto che la dose di cortisone era alta però è un po la cura selettiva in questi casi per rilassare infiammazione al nervo acustico e quindi ho detto ci stava però è che il testo audiometrico andava fatto molto prima perché se ci fossero stati dei problemi poi si partiva da lì e quindi già questo mi ha fatto gelare il sangue nelle vene poi fortunatamente testo audiometrico quello tonale perché quello l'impedenziometrico non l'ho voluto fare perché so che ti sparano dei suoni in cuffia forti e io sapete che ho anche suoni fantasma se mi sparo dei suoni forti comincia a sentire dei suoni un po ripetuti che vanno avanti per 30 40 secondi non è una bella esperienza quindi il dottore ha detto vabbè non glielo faccio tanto l'importante per stabilire la salute dell'orecchio e testo audiometrico tonale fortunatamente era tutto a posto quindi questo mi ha tranquillizzato un po non ho avuto fenomeni di sordità ipo acusia come la si chiama casomai ho il problema invece c'è dell'iper acusia perché ho questa ipersensibilità anche il dottore mi ha detto di evitare rigorosamente i tappi anche per dormire e io ci dormivo sempre perché odio i rumori anche se saprò un bandone sì non sempre stato un po poco tolerante sono ma non a livello così patologico quindi mi ha detto di evitare i tappi rigorosamente mi ha dato un sacco di integratori spendendo una marea di quattrini che non neanche ve lo dico e che non hanno risolto sostanzialmente niente che ho presi già da una settimana e a parte la sonnolenza non registro nessun miglioramento e mi ha detto le cose che che ti dicono tutti quando ne parli no ti devi adattare il tuo cervello si abituerà però ragazzi il discorso è non non ti puoi abituare a una cosa che varia che è variabile non ti puoi adattare perché tuo cervello starà sempre lì a controllare che non vada ad identi intensificarsi per non diventa che arriva arriva a dei livelli veramente sostenibili per cui io a un certo punto devo allontanarmi dal luogo rumoroso o dalla fonte di rumore mi metto anche delle cuffie che sono coprono il rumore senza senza audio non sono quelle che ho fatto vedere in quella maniera e il fischio si ridimensiona molto non è che sparisce ma si abbassa e quindi hai sempre il terrore che quella baseline come la chiamano in america venga mantenuta e non va a irritare troppo l'orecchio in modo che il fischio poi si stabilizzi su alta frequenza se no è proprio una roba da impazzire ragazzi da impazzire e questi integratori che ti fanno venire un gran sono ma lasciate anche questi perplessi perché se la questione va risolta con un concetto narcotico narcotizzate cioè facciamola addormentare a me non si lamenta dei fischi no ragazzi non è quella la strada e poi ve lo dico se qualcuno ne soffre magari non lo so scrivete pure nei commenti perché l'acufene viene svariati motivi non c'è solo me ci sono tantissime cause che purtroppo non riescano a capire essendo un problema così specifico così soggettivo non riescano a capire questi suoni che non esistono sono suoni che che li sentiamo solo noi probabilmente perché c'è un'anomalia a livello dell'elaborazione dell'orecchio anche se l'udito funziona ci sono altri problemi che creano questo suono che non esiste lo senti solo te la frequenza la sai solo te e quindi come si fa non si può generalizzare non si può dire perché tutti ti diranno ce l'ho anch'io te prova a chiedere a qualcuno ce l'ho anch'io mi sono abituato ma dipende ragazzi dipende se un piccolo fischio che poi dopo non ci fa neanche più caso è uno scenario ma un fischio che si adatta che vuole prevalere ai suoni e lui vuole essere più forte e non ti adatti e quindi il cervello sta sempre lì a pensare con apprezzione che non vada ad intensificarsi eccessivamente non sei al cento per cento sulle cose questo è la cosa che mi preoccupa di più non sono al cento per cento delle cose perché un 20 30 per cento ci penso sempre anche quando parlo e quindi come faccio a concentrarmi una parte di me è in coso è bisbisi è sempre lì che ma non è perché mi ossessiono è quello discorso non mi sto ossessionando e lo sento di più mi dice il dottore non ci pensare se non lo senti di più t'ossessione lo senti di più non è quello io lo sento di più perché lo sento di più perché lui aumenta con i suoni e io lo sento quindi non è che mi sto concentrando su quello è che se arriva oltre un certo livello tu lo senti anche con un motore dell'auto vicino non si può generalizzare probabilmente chi te lo dice a un diverso tipo di acufene che riesce a coprire o con la sua voce o con un audio a un certo decibel e io a me è capitato quello scenario forse più tragico perché fortunatamente non ho perdito l'udito ma però ragazzi questo è un enorme problema e io ho problema registrare i video perché io registro i video con le cuffie mi metto le cuffie e anche la mia voce rimbomba nelle orecchie è una roba tremenda ho registrato due video ma sono stati una tortura quindi adesso io sono andato anche un po' in crisi mi sono intristito perché mi sembra un po' che mi abbia un po' rovinato la vita questa cosa qui che mi è capitata e che non vedo non vedo margini di risoluzione cioè rimarrà sempre così e questo mi provoca una grossa angoscia tristezza perché non non mi aspettavo una cosa del genere è stata una mazzata tremenda che mi ha colpito moltissimo anche l'umore quindi adesso io non solo ho difficoltà a mettermi le cuffie ma anche a concentrarmi sull'argomento e parlare mi è difficile perché una parte di me è sempre lì non si stacca quindi io devo superare questa cosa qui ce la metterò tutta assolutamente però volevo registrare questo video per farvi capire che purtroppo per adesso c'è questo problema lo affronterò perché ecco è l'unica cosa che si può fare e troverò una soluzione ora mi sto un po' far camminando vi faccio anche vedere guardate qui cioè guardate sto sto prendendo di tutto sto spendendo fortuna i microfoni vabbè non non necessariamente c'è da mettersi le cuffie mi attrezzerò magari per fare video senza mettermi le cuffie anche perché volevo organizzarmi anche per fare le live anche lì ci sto lavorando per cui ripeto non è solo una questione tecnologica da di attrezzatura quella ci si può lavorare è anche una questione di testa che non riesco a concentrarmi perché adesso sono in crisi quindi anche il mio lato un po creativo ne risente e quindi adesso c'è un po questa pausa e purtroppo non è la prima del canale lo so quelli più più fedeli lo sanno nella prima spero assolutamente che non sia lunga come la precedente però adesso la situazione è così e quindi mi dispiace tantissimo e finché non supererò questa cosa purtroppo non potrò tornare a registrare video come prima siccome mi dispiace mi dispiace per il canale mi dispiace per tutto il gruppo la community cercherò di fare di tutto per tornare a registrare video però questo questo video qui lo faccio anche nella speranza che venga guardato anche da persone strane al canale che magari del gaming non gli frega niente ma che sono colpite da questo problema perché anche confrontare i pareri tra noi non non è male non è male perché siamo già un abbandonati parlo già come una comunità di di acofenizzati però è così c'è anche un gruppo facebook sugli acofeni comunque le persone con una difficoltà comune si aiutano anche reciprocamente perché purtroppo dal lato medico tante certezze non ci sono tra quelli che magari ci speculano e quelli sono da evitare come una peste o chi non non sa nemmeno esattamente cos'è l'acofene perché anche nel settore dello torino ci sono gli specializzati in audiometria questo secondo torino che mi ha visitato aveva un'attrezzatura di tutto rispetto si vedeva che comunque era sensibile all'argomento però essendo così soggettivo così diverso per ognuno di noi è praticamente impossibile capire non lo so io continuerò a fare accertamenti senz'altro non non mi fermo qui perché non sto accettando questa cosa qui non la sto accettando e voglio cercare di lottare per cercare di migliorare questo questo enorme problema che mi è capitato uno dei più grossi per questo dico video drammatico questo perché una cosa che senti solo te perché gli atti non capiscono non ascoltano non si può comunicare inutile inutile parlatene con chi ha il vostro stesso problema perché sennò vi diranno abituati il tuo cervello il cervello è meraviglioso si abituerà purtroppo non siamo tutti uguali le situazioni non sono tutto uguali e finché non le vivi non le capisci quindi massima solidarietà da chi è colpito da questo problema ripeto se ne volete parlare nei commenti io ci sono vi rispondo vi dico alcuna cosa che magari sembra anche un po egoista però che mi si venga a dire guarda che ci sono persone che hanno perso l'orecchio che non ci senta più da un orecchio che gli ha esploso un petardo grazie al cielo che hai tutte e due le orecchie che che l'udito è sano a me queste cose non rincuorano francamente io sono senz'altro vicino a queste persone umanamente sono vicino ma non mi fanno sentire meglio perché io guardo la mia mia parentesi di salute non mi fa sentire meglio sapere che ci sono persone che non hanno manco l'orecchio sono sordi da un orecchio ne conosco tanto anch'io che mi dicano vai dall'altra parte perché qua ti sento non mi fanno sentire meglio perché loro sono loro io ognuno ha la sua storia ognuno ha i suoi la sua sensibilità è inutile non è una cosa che sinceramente col mob non ha mai funzionato non è che vedere le sventure degli atti mi faccia sentir meglio non me ne frega niente mi lascia del tutto indifferente io guardo la mia sfera esistenziale non è che sono senz'altro ho empatia ho empatia e solidarietà nei confronti di chi soffre senz'altro tutta la mia partecipazione emotiva è quello che vuoi però non mi fa sentire meglio o comunque guardare il bicchiere dal lato mezzo pieno cioè se faccio un'operazione del genere la faccio io personalmente spiritualmente dentro di me non sugli altri non mi sembra neanche giusto perché ognuno si rafforza dentro se stesso è uguale voglio fare io quindi chiudo sta parentesi che magari sarà un po egoista però bisogna essere sinceri così è come la penso quindi va bene ragazzi però ci tenevo veramente a far sto video mi sono messo in gioco col mio faccione perché volevo comunicarvi questa cosa qui è un problema veramente da non prendere sotto gamba questo è un problema che finché non ti colpisce non hai idea di cosa sia quindi veramente sono vicino a tutti quelli che soffrono questa problematica e non riescano a trovare nemmeno la comprensione di chi gli sta intorno perché non capiscono quando la cosa è solo tua è un inferno privato come l'ho definito io un incubo un incubo privato magari inferno è un po troppo ma incubo privato sì c'è una cosa tutta tua ma di grande sofferenza e disagio e purtroppo solo tua cioè non la vedano all'esterno ed è questo raddoppia il dramma specie poi io veramente non so a parte video non so come potrò rimettermi delle cuffie per produrre musica in un posto sconcetto posso far così a orecchio e poi comunque anche la musica purtroppo mi attiva il ragazzaccio il anarchico e quindi l'acqua anarchico e quindi io sono veramente in crisi totale per questa cosa sono molto molto triste molto triste e abbattuto non ho altro da aggiungere veramente se non che non auguro questa cosa a nessuno al mondo non l'auguro a nessuno e chiudo chiudo con una raccomandazione state molto attenti state molto attenti perché lo dite solo uno non si torna indietro non nelle cellule dell'orecchio non si rigenerano quindi quando c'è un danno te lo tieni quindi pensateci pensateci prima di usare questi state attenti usate le cuffie state anche attenti a usarle attenzione al volume attenzione quando andate nei locali c'è un volume veramente disumano prendetevi cura del vostro dito perché non si può mai sapere che può esplodere una palla di maradona qui qui mentre avate boom ok però cercate metteteci la veramente tutta pensateci pensateci anche al mob che se ne sono state queste cose maledetti che hanno rovinato l'udito io mi sento che che una parte della mia vita è rovinata quindi io io spero non ce la metterò tutta per ripararla però adesso la vivo così quindi veramente ragazzi state state attenti se almeno questo video può essere di insegnamento pensateci veramente pensateci e prendetevi cura del vostro udito ok il mob vi saluta ci vediamo alla prossima ciao